Ragazzi, perchè non posso accettarle lì? Perché sei la cosa piena Sei già al massimo Ehm, bravi Tu puoi superarlo il limite Ma l'ho superato e non lo dobbiamo accettare Infatti sono al su, ci ho superato il limite Ehm... Ho superato il limite, che ho superato il limite Ho superato il limite Ho battaglia Abbiamo queste Si me la devi dare la quick messo Adesso la vuole a pignessi Ma ce l'avevo con zero Non si che ne come ce l'avevi Non so di stare Il duro che non ce l'avevo Qua che sei stato costrippato dal mundo Posso essere stato costrippato Un po' di più ma costrippato no VITALITY RESTORNED Vai di fuori posizione E le porte... Arriva la porta Via Che DPS incredibile abbiamo No se io per tre quarti ho pensato Alla vita io con la lancia Ed è perchè abbiamo un auto attacca inesistente E intanto usavo anche le scream Ok Ok Verde nel senso verde è lui che arriva Oh Non sono riuscito a venire la suizia Un crash Mi arriva già Sto da panne lì Qui? Mi era scarico Mi era schivato dopo essere teleportato Potrebbero spegnere anche prima ste piattaformi Allora È un cappone Ero 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 Non sono un'azituzione Ma non sono un'azituzione Un'azituzione Vendiamo. se non sa che non ci faccia un tempo io a rimanere vivo al bigardia dopo 26 anni oddio che malattia questo lo fai anche in due me lo faccio da solo eccolo io ancora c'ho da truppare un'escesa ma faccio responere mi raccomando chi fa il res support si conquista le cerchie non 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 Ehi, ce la facciamo, guarda che mi abbiamo conquistato, e ci ho chiesto, oh. Ehi, Zerini, mi da più che messe, posso dare l'uomo, quindi ci sono più punti a seguire la risposta. Scusami, devo stare indietro a riempire i cerchi per i miei micili, basta che non rientri le macchie di tridolo con i miei occhi, il topicando moro. Se ci fossero gli archi di ghiaccio, queste barriere non avrebbero vissi. E' stato indietro il cerchio di ghiaccio. Poi... Eh, questi mi hanno dato una passata anch'io. Scusami, non c'è l'ha fatto. Io, caro, ce l'avevo fatta. Vado. Sto sapere a barriere. Sto cercando un cruzzo per mettergli il target in testa solo per dargli la quickness, adesso. Adesso non mi serve. Se me la devo al corso, a te non sono grato. O chi c'è al corso, no? Scusa, adesso al guardian ce l'avevi, agli spettrini ce l'avevi, durante i cerchetti ce l'avevi. Non lo so, non ci ha fatto caso. No, sono caduto. Che lavoro per te, tu nemmeno mi riconosci. Vuoi fare cambio? Faccio quick di più a se io. Beh... Accelerate! Come faccio un dash? Ok, io non so come sono arrivato qua, ma sono arrivato qua. Stavo andando a fare il fungo, sono caduto davanti all'ultimo. Ah, quello c'è, ok. Manca questo di qua. Manca due. Non si so, non si so. Non si so, non si so, non si so. Ma non si so, non si so, non si so. Ma morire fa parte del ciclo della vita. Non si so, non si so. Non si so, non si so. Ma che cosa in questo mondo è che abita sozzicamente così? Ma senti ragazzi? C'è una piaccoletta? Ah, ok, me ne erò andata. E un 4 imperial fragment, un medaglio, non si so. No, non mi ha fatto schifare nessuno. Vabbè. Oh, 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 oh. Ho visto qualcuno quasi sbattere i denti. Ma che dovevi scattare? Il nostro video mi ha ferito. Due arro, fir, col tre square arro. Non mi ricordo che squadra sono io. Ok. Non so che devo farlo? Eh, ok. Due arro. Se avete roba che blocca, rallenta, non che blocca. E cadene, e congelamento, e va. Io non ce l'ho. E niente, è finita così. Il problema è che... Finché non mi faccio la lancia leggendaria non inizierò mai con la rotation giusta. Anche io. Uguale. Cioè, rimango con l'arma bella piuttosto... Uguale detto. Ho dato anche il zignette che è c'era poco picci. In questo caso. E' finito la rinforcata, quindi e' finito. In questo caso, mi avrei capito la rinforcata. In questo caso, mi ricorda. Ok, non so che i movimenti con l'arma. c'è uno che sta avanzando molto velocemente ma solo il grizzetto delle persone stiamo di Sì, è comodissima la skill della lancia per spaccare le palline dalla distanza, è questa bella pioggia sopra, è una prima fantastica, è un peggio dorata, è un punto a cato, ma il fantasmino ho preso, abbiamo un sacco di palline qua E infatti mi sono clearato, quello che se vai dentro l'area delle palline ti toglie il percentuale, quindi se... Guardare Tipo quella palla che ci sta per toccare, ora la distruggiamo Non si è rotta Ok, fanno il busto e se ci tocca con la pallina siamo morti Sì, guarda che c'è un rotto tocchino da no, e chiediamolo insieme a noi Sì, guarda che c'è un tocchino di ossa Il secondo praticamente è un 4 come ordine Cerchio quadrato, cerchio cuore, ok, sì Ok, ok Cerchio quadrato, cerchio cuore Se per qualcosa vedi una freccia rossa ci vai dentro, è quella tempica su cui devo andare La zerone Siamo tantissimi guardian Qui c'è una bomba lì in mezzo Proprio vado a freccia, vedo come si gira perfetto così Mi ne sto lì, fermo Lancia, lancia Sì, sì, lancia che se no scade Molto come un'imposizione Sì, sì, se il giocatore li prende, è tranquillo E il prossimo sarà cerchio Rimani in zona cerchio, esatto Così ti arriva un'altra bomba Tanto noi stiamo tutti vicino al boss E' proprio una prossimità Legata alle NPC Ci vado, ci vado, vado di cerchio Arriva il laserone, occhio Da cuore Ci sono già a cuore Ho fatto a mettere così start Vieni, mic, lanciami Grande Bomba grossa è alta, bomba grossa è alta Tanto è fatto a tornare per un laserone? Laserone? Ok, il prossimo è quadrato Quindi come lei passa a quadrato Ok, quadrato pronti Vieni, chi ha quadrato? Un po' un po' faiperato No, no, no Non è più sparito Non è più sparito Non è più distante, mic, non è più distante Occhio, occhio Oddio Tra poco è arrivata a freccia Vado a freccia C'è la bomba Ehi, la prossima bomba è su C'è occhio Su cuore Su cuore Su cuore, scusami Sì 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 E te l'ha tirata un'altra Guarda Sì 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 Oh Ma appena Ha fatto tutta sta facenda Vado a scegliere Non mi ricordo se l'ha passato oppure no Ok, vado a cercare Vai, ci sono Non mi ricordo Non ho visto se l'aveva passato prima o no Qual è la prossima? Nel prossimo è quadrato e poi incomincia un ventinima La prossima è quadrato, poi basta Scusa, l'ottico via La botta non è venuta in questo Guarda Oddio, ho blincato di là Quadrato, se mi vuoi mandare Se mi arriva te la Eh, sei dal lato sbagliato in realtà Vabbè, tiriamo la giù di di piazza Ah, no, ok, sì Pensavo di avvicinarmi perché era quadrato, ho capito come No, è sempre Sempre dal lato del cerchio le lancia Qualcuno Qualcuno cai ti Qualcuno cai ti un po' lontano per favore Faccio che c'ha proprio il fuoco addosso Quindi mi sa che Esatto L'ho menata è male Laserone E tranquilli Anche se l'ho menata è da lontano piano piano Il tempo stravanzo Io invece ho fatto una bella F2 Però è un dritto per dritto Dentro al laser Vedete, è esotico Olè, ma allora si va diretti ora Diretti E la 5 Diretti Grazie a tutti Grazie a tutti